La regione scende in campo al fianco della comunità bonorvese per la legittima presa di possesso del Parco Mariani, una vasta estensione di terreni di grande valore naturalistico e archeologico, finora occupato da allevatori abusivi e dalle loro mandrie di bovini. Se il sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino, dopo un recente vertice in prefettura, ha applicato le sentenze esecutive e mandato le notifiche per lo sgombero dell'area, l'assessore regionale ai lavori pubblici Paolo Maninchedda, a nome della giunta di cui fa parte, ha preso l'impegno di decidere con l'esecutivo l'invio nel Parco Mariani degli operai dell'ente Forestas per iniziare i lavori di sistemazione e il recupero del patrimonio boschivo delle tenute e in particolare la cura delle estese sugherette del compendio. Altri interventi da programmare con l'amministrazione locale saranno compiuti quando il parco, definitivamente liberato dagli abusivi, sarà dotato di spazi e strutture per l'accoglienza dei visitatori, percorsi guidati e altri accorgimenti per fare delle preziose tenute in un vero parco naturale, poco distante dalle domus degli anas più famose della Sardegna e che contiene nel suo territorio attrazioni archeologiche altrettanto importanti, come le tombe dipinte di Sappaladalga, dalle bellissime doppie spirali in ocra e dai disegni a scacchiera sul soffitto.